E' quando sei al mare sdraiato a goderti il sole su una spiaggia qualsiasi, arriva il negro, voglio dire l'uomo di colore, vai che faccio, quello di far finta di dormire è un vecchio trucco che non funziona mai, ehi amico, madonna come è grosso, è come è nero, voglio dire colorato, colorato di nero però, dicono che quelli neri neri sono i migliori, i meno aggressivi, d'altronde l'idea di uno scontro fisico non è certo da prendere in considerazione, lui è lì pieno di cinture, sciarpe, capellini, borse, valigie, tappeti, assugamani, maglioni, insomma, tutto quello che potrebbe portare un camioncino di medie dimensioni, tutto intero, e ora prova tu a non comprare niente, guarda come sono, povero Cristo, saluto viene, in fondo anche lui deve mangiare, magari un sacco dei figli, 4 o 5 mogli, giovani, però che salute, dopo un po', alle ore 14 sotto il sole coccente di agosto mi rimetto sdraiato con la gioia di aver acquistato alcuni oggetti utili, tra cui una sciarpa di lana finto cashmere e un bel ciaccone di montone, benissimo e quando sei lì, tranquillo, in un ristorante qualsiasi, in compagnia dei tuoi pensieri migliori, sei lì in attesa della seconda portata, sbriciolando dolcemente, arriva il sordomuto, voglio dire l'audio leso, viene avanti col suo passo felpato, in un silenzio imperturbabile posa sul tuo tavolo un piccolo pupazzo e un biglietto con il suo scritto sordomuto, l'avevo capito, generalmente non ce la fai a ridaglielo subito il pupazzo, perché il felpato se n'è già andato, solo chi frequenta poco i ristoranti può pensare che sia un gentile omaggio seguito da un poetico addio, io no, io lo so che torna e sbriciolo più nervosamente, no, non è per i soldi, e che non se ne può più, adesso quando torna gliene dico quattro, ma cosa gli dico, si può neanche litigare, orchieccolo il felpato, certo che poi ragione, se è proprio vero che è sordomuto, così. Ecco, tenga un cenno di ringraziamento e si allontana. Rimango da solo di nuovo, sempre in attesa della seconda portata, e mi viene in mente che una volta ho visto un film, non mi ricordo bene la storia, non mi ricordo neanche le intenzioni del regista, so che quando uscivi, soltanto per il fatto di non essere sordomuto, ti sentivi una merda. Benissimo. E quando sei lì, tranquillo, a un incrocio qualsiasi, a bordo della tua macchina pulita, appena lavata, arriva il maracchino, voglio dire il lavavitri. Maledizione, non l'avevo visto, se no mi fermavo prima o cambiavo strada. Lui viene avanti col suo bastone e io, no grazie, col ditino due volte, no? E la fine, no! Ce l'ho fatta. Sono stato un po' cattivo, ma efficace. E proprio in quel momento, schiaff, la spugna sul vetro e tutta l'acqua che cola sulla mia macchina pulita, appena lavata. Che male! E lui col zampone, vum, vum, due passate. Un po' meglio. Sono rimaste solo un paio di righine orizzontali, credevo peggio. Ma appena mette giù i tergi, i cristalli, tutte le goccioline, che poi mi rimangono le righine verticali. Non ti incazzare, non ti incazzare, non ti incazzare che poi sei anche razzista. C'avessi più mille lire che più rapido è e meno si soffre. Ma che il portafoglio non mi incastra, ecco. Non c'ho le mille lire né che il portafoglio. Cinque mila, cinque mila, sì, tenga, tenga pure, cinque mila. Ecco. A questo punto lui è raggiante. E dato che io ho il finestrino abbassato, mi appoggia una mano sulla spalla. No, grazie, questa l'ho già lavata. Quando arriva il verde riparto con la mia macchina pulita, stampe da lavata, e col vetro pieno di righine orizzontali e verticali. Benissimo. È vero, troppe volte accade di non sentirsi perfettamente a nostro agio. L'esistenza di qualcuno che sta male è una specie di tabù. Qualcosa che non vorremmo vedere. È come se dentro di noi ci fosse uno strano senso di colpa che non sappiamo spiegare. E allora forse per riparare abbiamo bisogno della nostra buona azione quotidiana. No, intendiamoci, benvenga qualsiasi slancio che possa alleviare le sofferenze di altre persone. C'è solo da sperare che la nostra bontà sia il più possibile pulita. Perché anche la bontà, se è compiaciuta, finta o addirittura interessata, non serve certo a procurarsi un posto in paradiso. Sono esigenti i guardiani del cielo. La sola buonetta che vogliono è l'amore.